Ciao, ti faccio vedere questo trucco, questo rimedio infallibile per catturare le zanzare che avete nell'orto, nel giardino o balcone. Praticamente cosa dovete fare? Dovete prendere una pagella nera come questa, abbastanza ampia, riempirla per metà con acqua, acqua naturalmente anche di rubinetto, adesso lo facciamo in diretta così almeno faccio vedere proprio l'esempio pratico, metà o circa metà, poi oltre a quest'acqua dovete inserire un filo di olio, olio che si espande dovete vedere che si, che copre diciamo quasi tutta la superficie, tanto questo si espande, se copre tutta la superficie è anche meglio, così, vedete l'olio dopo si spande, cercate di coprire la superficie insomma, dipende anche dal tipo di olio, se si espande più o meno nell'acqua e cosa dovete fare? Dovete metterlo in un posto illuminato ad esempio su un balcone giardino o orto che possa riflettere sia i riflessi del sole o della luna così le specchie d'acqua, cercheranno di deporre le uova e rimarranno imbargionate. Questo è un metodo molto efficace, scattura molti insetti, compresa le zanzare e nei prossimi video vi faccio vedere il risultato diciamo dopo qualche giorno. Se il video vi è piaciuto iscriviti al canale, posta le domande nei commenti e metti mi piace se il video vi è piaciuto. Al prossimo video, ciao!